Grazie Ha capito Bellissima 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 Sì, ma mamma mia! Sette parti! Sette parti! Ecco ora! Avremo tutti! Non troverò l'anno, voglio dire! Oh, che fai! Guarda che oggi te ne! Scusa! Vai! Vai! Non mi occupare la vista! Vai! Vai! Aspetta, 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 aspetta! No! Scherzi! Fatete concentrarlo? Ecco, ma... Quanto vuoi? Ci sto, eh... alle 10.10 Vai! Ti ha fatto, ti ha fatto! Ti ha fatto sto puntino! Cazzo, c'è solo 3 minuti di video! No! 9-8! Devo cancellare un po' di roba! 12-9! 12-9! 12-9! 9-9! 9-9! 10-9! 12-9! 12-9! 12-9! 12-9! no no si vale così almeno non paga zitto vai è il cappello che porta sfiga beh no ha vinto dai mi sono rimasti 35 secondi sbrigate dai 20 secondi ha sbagliato ha sbagliato dai 15 secondi forza e vince leo